L'aggregazione e l'amicizia tra tutti gli studenti del ballo di Diano saranno il filo conduttore della giornata dell'arte e della creatività studentesca in programma a Sala Consilina sabato 18 maggio. Non a caso, l'evento vede infatti tra gli organizzatori e gli studenti di tre diversi licei valdianesi, l'Istituto di Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, il Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula e l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Sacco di Sant'Arsenio. Per consentire la realizzazione della kermesse patrocinata dal comune di Sala Consilina, il sindaco Francesco Cavallone ha messo a disposizione la propria indennità di carica. Ci vediamo sabato a partire dalle 9 di mattina fino alle 13 all'Arena Cappuccini per ricominciare l'appuntamento serale dalle 19.30 fino alla fine dell'evento. Il motto sicuramente è quello dell'aggregazione di noi ragazzi del territorio, del vallo. Appunto chi l'ha organizzata, quindi le scuole del territorio, quali liceo di Padula, gli istituti di Sala e di Sant'Arsenio, diciamo hanno quelli l'obiettivo di aggregare in un unico luogo quale l'Arena Cappuccini di Sala Consilina, tutti i giovani del vallo secondo l'unica linea guida che è quella dell'arte e della cultura. Infatti durante la giornata si seguiranno vari eventi da quelli che sono diciamo le esibizioni artistiche quali il ballo, la recitazione, a quelle che poi sarà l'evento principale della serata ovvero l'artista principale, il cantante che poi seguirà ad un DJ set. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di anche far conoscere i talenti del territorio in base alle proprie caratteristiche, alle proprie passioni. Ci vediamo sabato.